Scadiamo le montagne, superiamo tutta l'Italia, arriviamo al mare per ripartire credo sia questo. Questa qui è un'idea bellissima, può essere un raggio di sole per tante persone che litiferanno da bordo strada, qualche cosa che va oltre la competizione, lo sport. Danielina sei bravissima! La staffetta è un gesto simbolico dove io consegno la mia voglia di non molare, la mia voglia di rinascere, che quando l'uomo lo fa, credo che abbiamo trovato la definizione di civiltà. Ci si vede tutti lungo la strada per festeggiare a Santa Maria di Leuca. Sono gravi le condizioni di Alex Zanardi, l'atleta è stato travolto da un tir a bordo della sua handbike. Non c'era altro in quel momento lì. Questa staffetta non si deve fermare, perché Alessandro questo è quello che vorrebbe. A costo di rompermi le braccia, la farò. Buon proseguimento! Non c'è divertimento senza salita. Credo che appunto il vostro esempio svelerà a tante persone che i problemi e le difficoltà sono tali, sennò avrebbe un altro nome, ma che esistono delle risposte.